Ringraziamo tutti, oggi è una bella giornata. Non nasconde l'emozione e la soddisfazione Paola Defendi, la madre di Giulio Reggeni, insieme a suo marito Claudio, dopo la decisione del Gup di Roma di rinviare a giudizio i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del giovane ricercatore avvenuto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2016. Perché non si può dubitare, come hanno fatto le difese degli imputati, che anche i meri sequestratori di Giulio hanno cagionato a Giulio catturandolo e tenendolo sequestrato per nove giorni e nove notti, sofferenze fisiche e psicologiche. Il processo è stato fissato per il prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise della Capitale. L'assenza degli imputati non ridurrà il processo ad un simulacro, rassicura il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. La presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ammessa come parte civile nel procedimento a carico dei 4007 egiziani. Presente al Tribunale di Roma insieme ai genitori di Reggeni e anche la segretaria del PD Elislein. Siamo qui per avere giustizia. Siamo qui perché bisogna stare accanto finché non otteniamo la piena verità e giustizia.